C'è questo tormentone sul fatto che la blockchain sia uno strumento per rendere le transazioni finanziarie o altri tipi di transazioni più efficienti, più economiche e più veloci. Metteremo la blockchain nei nostri sistemi per renderla più veloce o più economica. Perché in realtà la tecnologia blockchain è estremamente inefficiente, estremamente costosa ed estremamente lenta. Per design, per definizione, non in maniera provvisoria, in maniera definitiva. In realtà è una tecnologia che permette di fare cose che non si possono fare con sistemi centralizzati, cioè eliminare un singolo punto di attacco, ma il costo di questo guadagno è quello di avere un sistema che è più costoso, più lento e più inefficiente. Quindi chi cerca di vendere la tecnologia blockchain come un guadagno di efficienza, di costo o di tempo, o sta parlando di blockchain in realtà pensando a qualcos'altro, quindi la digitalizzazione o l'open source, oppure sta semplicemente dicendo qualcosa che corrispondono a un hype non connesso alla realtà. C'è un altro tormentone secondo cui la tecnologia blockchain servirebbe a proteggere e a nascondere i dati. Del resto si parla anche di criptovalute, quindi cripto, criptografia, nascondere, criptare, proteggere il dato. Quindi molti vogliono usare la tecnologia blockchain per proteggere i propri dati. In realtà la tecnologia blockchain in questo momento, nei protocolli principali con pochissime eccezioni, come per esempio Monero o Green, non è una tecnologia che usa la criptografia per nascondere i dati, anzi al contrario, è una tecnologia in cui niente è privato, nessun dato è protetto, niente è nascosto, niente è criptato. Tant'è che crypto in cryptocurrencies sta per criptografia usata per firmare, è usata per fare firme digitali, per riconoscere firme digitali. Non è mai usata, salvo appunto un paio di casi di nicchia e di ricerca, ma per esempio in bitcoin e in altre criptovalute di produzione, la criptografia non è usata per nascondere i dati, ma anzi per verificare i dati pubblici. Quindi non esiste l'utilizzo della tecnologia blockchain con la funzione di nascondere e proteggere i dati. La criptografia applicata può essere usata per nascondere i dati, ma non in senso stretto la tecnologia blockchain. C'è chi ritiene che la tecnologia blockchain servirà soprattutto ad efficientare modelli di business o di governo o di relazioni sociali esistenti. Quindi il governo che usa la blockchain per il catasto o per la sua moneta nazionale, la banca centrale che usa la blockchain, o più in piccolo la banca commerciale che usa la blockchain, lo stock market regolamentato che usa la blockchain. Quindi blockchain come strumento al servizio di ciò che esiste. In realtà è come dire che internet è stato uno strumento al servizio dei giganti dell'informazione centralizzata, quindi che internet è stato utilizzato dai giornali o dalle major discografiche o cinematografiche. Come sappiamo non è così. Internet come strumento ha permesso la disintermediazione di questi giganti, ha permesso un cambiamento che costituisce l'occasione di entrata nel mercato da parte di nuovi attori che fanno nuove cose e che tendono a scomporre e ricomporre in maniera diversa il mercato e l'industria. Questo vuol dire che la blockchain non sarà principalmente usata dai giganti della finanza per efficientare le loro transazioni, ma da outsider della finanza che non possono entrare in questo mercato per cominciare a scambiare valori tra di loro. E questo si estende a ogni possibile applicazione. Come abbiamo visto la blockchain non è uno strumento di efficienza, risparmio costi, risparmio tempi o di guadagno di privacy, anzi è uno strumento in cui si perde tutte e quattro queste caratteristiche, ma con il vantaggio di eliminare i singoli punti d'attacco. E senza i singoli punti d'attacco è possibile fare cose che oggi non è possibile fare, perché oggi sarebbero censurate da normative, regolamentazioni, burocrazie, posizioni di vantaggio degli incumbent. Si dice che la tecnologia blockchain serve soprattutto ai criminali, o meglio, quando si parla di questo si tende ad additare direttamente il prodotto della tecnologia blockchain, quindi le criptovalute e soprattutto la criptovaluta per eccellenza, la criptovaluta di produzione, quindi bitcoin. Bitcoin serve soltanto ai criminali. In realtà non è così. Ad oggi non è così per ovvi motivi di matematica. La liquidità e la profondità di mercato di bitcoin non consente un utilizzo significativo all'interno delle principali attività criminali. Pensiamo al riciclaggio. Non esiste liquidità sufficiente per fare il riciclaggio non usando il metodo principale per il riciclaggio, che sono le banche regolamentate, le regine del riciclaggio in questo momento. Anche per quanto riguarda il traffico di armi, il terrorismo, gli scambi avvengono con strumenti consolidati, liquidi, quindi banche compiacenti o scambi di contante, in genere in dollari americani prodotti dalla Federal Reserve. Quindi ad oggi non è vero che bitcoin può essere usato per scopi criminali in quantità o in volumi in qualche modo rilevante. Un domani sarà vero che la tecnologia bitcoin verrà utilizzata per scopi criminali? Assolutamente sì. È vero per bitcoin, è vero per le automobili usate per le rapine in banche, è vero per gli schermi dei computer e le tastiere usate per ogni genere di crimine informatico, è vero per il fuoco che è usato per applicare incendi dolosi. Ogni tecnologia può ovviamente essere usata anche per scopi criminosi. Le uniche tecnologie che non sono usate per scopi criminosi sono le tecnologie che non funzionano. Si tende a dire che la tecnologia bitcoin, che è lo stack tecnologico di bitcoin, che il protocollo bitcoin è qualcosa ormai di vecchio e di superato da nuove alternative più moderne, più evolute, più ricche di features, di caratteristiche. In realtà si tratta di un luogo comune diffuso soltanto tra persone tecnicamente non esperte che non hanno approfondito. Bitcoin è un luogo comune che ha fatto breccia a livello di marketing negli investitori di cripto token, negli investitori di criptomonete, ma che non ha nessun riscontro da un punto di vista scientifico, di ricerca, di ingegneria del software, di scienza criptografica o anche semplicemente di analisi dell'infrastruttura. Bitcoin è un progetto equivalente a quello che è internet. L'internet che usiamo tutti i giorni, quindi il protocollo che tecnicamente si chiama TCP IP, era già all'inizio degli anni 90. L'inizio degli anni 90 c'era TCP IP versione 4, che è internet, che era praticamente la regina dei protocolli di trasmissione di dati. C'erano delle alternative, molte persone hanno cercato di spingere alternative, aziende, governi, individui. Tutte queste alternative hanno goduto di una pubblicità anche molto più forte di internet, pensiamo ai protocolli ISO-OSI spinti dai regolatori contro il protocollo internet, oppure protocolli spinti da Intel, piuttosto che da IBM, piuttosto che da Xerox. Tutte queste alternative sono morte nel corso degli anni 90, lasciando l'unica vera alternativa che aveva un dislivello enorme di serietà di sviluppo, di rigore scientifico, di rigore di programmazione, che hanno cominciato ad attrarre i migliori cervelli dell'industria e invece relegando i peggiori cervelli dell'industria ai progetti alternativi. Bitcoin attualmente è una serie di tecnologie che non hanno paragoni nel resto dell'industria open source. Si tratta del progetto open source con maggiori risorse intellettuali al mondo. Si tratta del codice, il codice sorgente di Bitcoin, è il codice con la più grande peer review di esperti della storia e si tratta di uno dei progetti che ha permesso gli avanzamenti di criptografia applicata più profondi della storia della criptografia, in pochi anni relativamente parlando. Si tratta di un'infrastruttura che non ha paragoni in termini dei suoi cloni, quindi ci sono satelliti che trasmettono i blocchi Bitcoin dallo spazio coprendo l'Africa e l'Asia, ci sono dei circuiti integrati in cui costano milioni da produrre, il loro unico scopo è produrre Bitcoin, ci sono i più grandi esperti di criptografia, sistemi open source, sistemi distribuiti, teorie dei giochi che lavorano su Bitcoin e in genere gli altri progetti hanno una componente del 99% di marketing e una componente dell'1% di reale sviluppo tecnologico che in genere consiste nel copiare gli avanzamenti di Bitcoin aggiungendo un po' di buzzword, un po' di terminologie che suonano tecniche.